Rinauto nel 76, nel 78 era prodato alla Formula 2, quattro anni dopo aveva fatto il grande salto ed era passato alla massima formula nella quale aveva disputato 48 gran premi, il miglior piazzamento, un quinto posto in Brasile nel 1982 e proprio per la modestia dei risultati in Formula 1, Winkelok da due stagioni correva anche nel campionato di durata. Winkelok noto per il suo buon umore aveva una percentuale di uscita di pista piuttosto alta, nelle 48 gare di Formula 1 ben 11 volte era stato costretto ad abbandonare per incidenti e di incidenti ne aveva avuti anche in Formula 2, ecco quello di cui fu protagonista al Nürburgring 5 anni fa, la sua macchina in quella occasione su uno dei famosi dossi del vecchio circuito tedesco praticamente decollò e ricadendo al suolo esplose letteralmente, in quell'occasione Winkelok non riportò neanche un graffio, sembrava fosse un pilota fortunato, domenica invece l'incidente mortale.